E' quella di spagnolo presentano Festival Show E benvenuti a Festival Show 2018 Grazie Grazie della vostra partecipazione in Piazza Ferretto per questo appuntamento atteso e ormai consolidato dell'estate mestrina Permettetemi subito un ringraziamento all'amministrazione comunale di Venezia che ha voluto con convinzione pianificare questo evento che per noi è il penultimo del tour di questa estate infatti la prossima settimana saremo a Trieste in Piazza Unità d'Italia per la finalissima ma anche per voi Piazza Ferretto rappresenta una perla nel nostro itinerario e quindi vi ringraziamo per la vostra partecipazione come ringraziamo la società Vela per il grande e necessario supporto tecnico-logistico alla realizzazione di questa manifestazione voi vedete questo enorme paicoscenico il cui staff l'ha installato in tempo record a partire da ieri mattina e quindi subito un vivo ringraziamento da parte mia a tutti i tecnici che lavorano per questa nostra produzione a tutti i livelli e grazie per il vostro applauso dai tecnici audio luci, video a quelli che seguono la diretta radio televisiva a quelli che svolgono le varie mansioni per questa cittadella della musica che anche questa sera ha portato un ricchissimo cast artistico per voi cominciamo subito con il chiamare in scena con lei che quest'anno ha accettato volentieri il nostro invito è un'apprezzata attrice una bravissima cantante una splendida presentatrice la accogliamo con un grande applauso a condurre il festival show a Mestre è Bianca Guacero grazie a tutti e rigurito grazie a tutti